Ciao, hai mai sentito di avere paura di apportare dei cambiamenti nella tua vita? Anche se nella tua vita ci sono alcuni ambiti in cui potresti avere di più o senti che potresti stare molto molto meglio? Ebbene, se ti è capitato sappi che è normale. Perché? Beh, perché comunque un po' ti è stato insegnato che non conosciamo mai la via nuova. Allora, com'era quel detto? Chi lascia la via vecchia per la via nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. È vero, certo, ma sei sicuro che la vita sia tutto lì? Sei sicuro che quella sia veramente la scelta migliore da fare? Perché è vero che il cambiamento può mettere timore nella tua vita, ti può far sentire insicuro, perché tieni conto che la paura dell'ignoto è presente in tutti noi. Quindi, renditi conto intanto che la tua vita è ignota, nel senso che anche se tu cerchi di costruire situazioni che ti danno sicurezza, sappi che tutto può cambiare da un momento all'altro. E magari non sempre nel migliore dei modi, subito. Tieni conto che la vita è un'avventura ed è bene che sia in continuo movimento, perché tu non sei qui per giocare a vegeto, tu sei qui per muoverti, per imparare, per esplorare, come ti ho magari già detto tante volte se hai seguito i miei video. Quindi è normale che tu abbia paura delle trasformazioni e del cambiamento, ricordati che la vita ti porta sempre verso il tuo bene supremo. E quindi nel momento in cui senti che qualcosa non va, anche le tue emozioni sono un'avvisaglia per dirti che c'è qualcosa che può essere migliorato. Quindi in questo caso cosa ti suggerisco? Beh, prima di tutto di utilizzare la Divine Connection per espandere tutte quelle emozioni e sensazioni di paura che ti impediscono magari di muoverti nella direzione che ti sta chiamando o di attuare delle azioni per poter intraprendere un cambiamento nella tua vita. Espandi tutte queste paure con la Divine Connection. Se non conosci ancora il metodo, leggi il libro, entra nel gruppo così che tu possa avere anche un supporto durante la tua esplorazione della vita, durante il lavoro che tu fai su di te e poter ricevere tutti i contenuti. Ricordati che la tua paura è normale, ma non è la paura che ti blocca. Quello che ti blocca è la tua decisione di non provare paura. Quindi ricordati bene che tu non hai blocchi, tu non hai impedimenti, hai delle paure che tu puoi sciogliere, puoi lasciare andare per intraprendere veramente un percorso di vita che ti faccia sentire bene e soddisfatto. Bene, un abbraccio di luce e a prestissimo. Ricordati di iscriverti al gruppo Divine Connection se non l'hai ancora fatto. Ciao ciao! Grazie a tutti!